Finale al Cardiopalma, Luciano Giunti di Arezzo tra Fortis e Stia, due formazioni che per opposte motivazioni cercavano i tre ponti. Lo Stia voleva la vetta della classifica, la Fortis invece voleva uscire dai bassi fondi della graduatoria. La partita si sblocca nel finale di primo tempo, al 43esimo il tiro da dentro l'area di Moretti incocce il braccio di Agliari. Rigore per l'arbitro, accesa discussione, ammunizione del bravo centrocampista dal dischetto Moretti non ha difficoltà a portare in vantaggio lo Stia. Nella ripresa la Fortis però riesce a ribaltare il risultato, dopo un minuto altro rigore, lungo lancio di Cannata per Gelli che viene atterrato, calcio di rigore, batte Brunacci, Mencattini devia magistralmente ma subentra Cannata a mettere in gol.